Buonasera, sono l'SMC degli MTL, servirebbe una stanza per cinque persone, per la notte dall'8 al 9 marzo e dal 9 al 10. Sì, aspettiamo che lo voglio con me. Ok, grazie. Grazie a lei. Ok, ok. Senti, no danger, faccio vinta di essere gay, senti qua. Io gli dico con mamma perché dico, mamma sono gay, basta. Adesso vi passo al collega, secondo me si sto facendo un puntino. Eccolo. Pronto? Eh, salve. No, non ho capito, scusi. Sì, se mi puoi lasciare il suo recapito così, la faccio ritiamare per 10 minuti il collega è ingegnato. Sì, un secondo solo. Mamma, basta, è inutile che continui, ho deciso, sono gay, basta, falla finita porco Dio. Scusi. Niente. Va bene, allora, vi lascio il numero? Sì. Il nome? Il nome Simone Polognoli. Collattivi? Collattivi. No, è Simone Polognoli, Palermo, Otranto, e via. Perfetto. Ok, buona serata. Grazie, arrivederci.